Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Roccasalvo della community visionforks.info e oggi vi parlo per conto della nuova rubrica Wake Up Call della giornata di oggi, lunedì 27 giugno 2016 questo è il nostro sito web, vi ricordo che in alto sulla destra all'interno del video vi compare quella che è la scheda che vi permetterà di eccedere al nostro sito web ufficiale mentre sulla descrizione troverete quelli che sono i link dei nostri social network principali dove potete aggiornarvi su tutte le attività della community passiamo un po' ai grafici, vediamo un po' quello che è successo abbiamo visto subito, andiamo a guardare appunto il nostro indice italiano profondo rosso per quanto riguarda il MIB che a seguito della Brexit ha avuto un crollo storico con una perdita superiore ai 12-13 punti percentuali in chiusura di contrattazione della giornata di venerdì che cosa abbiamo visto per quanto riguarda appunto il nostro indice italiano sicuramente era interessante su un'ottica settimanale tracciare la trendline sui massimi del 2007 con i massimi del 2015 e massimi di fine appunto 2015 che hanno portato i prezzi sempre verso un ribasso interessante al momento noi abbiamo individuato anche due aree di prezzo importanti che sono i 15.244 che al momento sono stati testati e vengono tenuti e area 17.089 che dire, la tenuta di 15.244 quindi quest'area di prezzo mostrata su questi livelli qua potrebbe comportare un trading range all'interno dell'area sino a area 17.089 quindi un possibile balzo all'interno di questo rettangolo tra due linee, due aree di prezzo indicate sul grafico quindi Fuzzimib che al momento di prima mattina si trova in area positiva quindi segnando un più 0,70% andiamo un po' avanti vediamo anche la nostra valuta la valuta delle valute euro-dollaro che è apertura in gap down per questa nuova seduta settimanale anche qui euro-dollaro ancora ingambiata all'interno di due livelli di prezzo interessanti 1.14.02 ed 1.08.22 che dire, avevamo individuato anche su un grafico giornaliero una trendline che collegava i minimi del dicembre 2015 con i minimi del marzo 2016 ed i minimi del 30 maggio 2016 è rotta perfettamente durante il profondo rosso del venerdì quindi durante la Brexit referendum in Gran Bretagna al momento cosa ci si può aspettare? io ho tracciato un rettangolino proprio in quest'area di prezzo circa 1.09.24 il minimo di venerdì perché voglio valutare come si comporteranno i prezzi se dovessero arrivare in quest'area qua il non arrivo in quest'area qua potrebbe invece comportare un ritest della trendline al momento è rotta, ribasso e quindi il ritest della stessa potrebbe comportare occasioni ribassiste staremo a vedere quindi siamo in attesa un po' di euro-dollaro anche sterlina-dollaro ha regalato dei gap-down importanti nell'ottica di 180 pips abbiamo individuato qui su un grafico giornaliero una trendline ribassista perfettamente tenuta sporcato un po' nelle giornate prima del referendum per poi il referendum riportare un meno 10% quindi il tutto a ribasso area interessante era l'area 1.42.17 che era un'area spartiacque altra area interessante individuata sull'analisi di ieri invece 1.37.96 dove i prezzi hanno già prodato negli anni addietro soprattutto nel 2001 nel 2008 ma li hanno anche sporcati nell'85 quindi area di prezzo 1.37.96 da tenere monitorata dove i prezzi potrebbero tranquillamente approdare nei prossimi giorni diversa la situazione se dovesse essere rotta invece il minimo in area 1.32.35 che cambierebbe quella che è la nostra visione prima di darvi due spunti interessanti su un mensile perché i giornalieri sono al momento sporcati da quello che è successo riguardo il referendum appunto in Gran Bretagna cosa è accaduto in queste ultime settimane? Vediamo gli sviluppi un po' più importanti e le notizie più significative di questo weekend il commissario dell'Unione Europea innanzitutto letto che era segnale di missioni Moody's declassa l'economia britannica a seguito appunto di questa possibile uscita dalla zona euro la Scozia conferma l'ipotesi di nuovo referendum quindi vorrebbe l'annessione all'Unione Europea al di là dell'uscita della Gran Bretagna e negli ultimi giorni si è parata anche di una petizione per un secondo referendum che ha raccolto già 3 milioni di firme quindi per ripetere quello che potrebbe essere il referendum ufficiale che per portare o no la Gran Bretagna all'uscita Londra, anche Londra chiede l'indipendenza per essere collegata è connessa ancora all'Unione Europea che cosa succede per la Spagna? Spagna ancora senza maggioranza i popolari sono il primo partito i socialisti davanti a Podemos quindi che cosa è successo? il Parlamento che verrà formato nelle prossime settimane è frammentato come quello uscito dalle elezioni dello scorso dicembre quindi il peso di diversi partiti è quasi invariato punti operativi interessanti per quanto riguarda l'euro sul dollaro australiano su una trendline abbiamo tracciato una trendline su un grafico mensile dove la rottura dei livelli di 1,47 potrebbero comportare a prodi prima in area 1,38 dopo in 1,29,10 quindi interessante valutare un po' dopo la fase short e la correzione possibile continuazione di bassiste su un grafico mensile dell'euro contro il dollaro australiano ultimo d'arrivo il dollaro australiano sul dollaro canadese dove invece vi è una trendline interessante tracciata dai minimi del 2008 con i minimi del 2015 e i minimi del 2016 al momento la rottura dei massimi in area 1,097 e 80 potrebbe comportare un approdo prima in area 1,087 e poi in area 1,05 e 90 per oggi è tutto vi ringrazio questo è Wake Up Call vi diamo appuntamento a domani